Grazie per loro, applausissimo, super super atripista questi qui, che da uno dappertutto anche dove non si può, grandissimi, in carlate si prende l'onere di tirare il trenino di questi atripista della batteria numero due e a seguire Ol Jack e Comasco, da ora Caslini canziano e da ora la tripletta del carlate, addirittura l'arrivo anche per loro, scatta l'applauso. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.